Estendere la vaccinazione contro il coronavirus anche a tutte le persone ricoverate in ospedale, qualunque sia la patologia e il motivo del ricovero, prima che queste vengano dimesse. È la richiesta del commissario straordinario per l'emergenza covid a Palermo, Renato Costa, che ha già inviato una circolare agli ospedali palermitani, sollecitando più volte ma senza ricevere alcun riscontro. Una richiesta che nasce sia per accelerare i tempi di immunizzazione della popolazione siciliana e uscire quanto prima dall'emergenza pandemica, sia perché vaccinare chi è già ricoverato sarebbe un'impresa facile, considerato che i nosocomi dell'isola possiedono già le dosi del siero anticoronavirus. Per quanto riguarda invece la platea a cui destinare il vaccino anticovid, la priorità adesso è diventata la fascia di età compresa tra i 50 e i 60 anni, ovvero quella che in questa fase della pandemia è la più esposta. Vaccinati i soggetti fragili e gli over 80, il maggior numero dei ricoverati per il coronavirus nell'isola in questo momento ha infatti tra i 50 e i 60 anni, per questo motivo diventa fondamentale accelerare la vaccinazione anche di questi soggetti.